Ciao ragazzi e benvenuto in un altro video di Carlo Magno, l'itolo americano napoletano. Sono sempre a Genova, ho trovato un posto interessante, infatti sono appena uscito con il bottino, ho trovato online per caso e niente, questo vale come intro e vale anche come spiegazione del locale. Pop Burger and Beer, fanno roba principalmente panini, hot dog, queste cose qua, roba tipicamente americana e la cosa mi ha incuriosito, quindi mi sono fermato, ho ordinato e adesso vado a mangiare, insomma. Come sempre darò via i miei carli, che sarebbe unità di misura, una votazione da 1 a 5, 1 malamente e 5 top. L'unica cosa che mi è rimasto fatto rimanere un po' male è che loro sul menù, almeno sul loro sito, avevano, si chiamano corn dogs, corn dogs sarebbe una cosa americana dove inzuppi un wustel che sta su una stecchetta di legno in un tipo di pastella fatto col mais e poi viene fritto. Diciamo che sono andato, l'unico motivo per cui sono andato era proprio per assaggiare questo e nonostante sul menù, sul loro sito ci stava, lì in persona non c'era. Penso che sarà il proprietario, mi ha detto, guarda, il sito non è aggiornato, quindi il menù sul sito non è quello attuale. Per il menù attuale basta che vai su Instagram, insomma, e potrai trovare lì il menù attuale. Allora, vi dico subito quello che ho preso, leggerlo perché c'erano tanti dettagli. Panino al pollo, petto di pollo, a pollo 13 si chiama, petto di pollo campese, in doppia pannatura di cornflakes, bacon, cheddar, cipolla caramellata, insalata, iceberg e salsa ruben, che è un po' piccante. Poi ho preso una cosa che si chiama cascio pops, che sarebbero dei croquet di patate con il pecorino grattato sopra, speriamo che si mantiene. E poi, come wustel, ho preso rocket dog, wustel artigianale di puro suvino, bacon, cheddar fuso, mamma mia, cipolla, crispy, salsa scelta. Ho preso la stessa salsa, quella leggermente piccante, del panino. Ok, io qua ho un problema. Questo sarebbe l'antipasto. Guardate come si presenta. Questo è da portata, logicamente. Queste, so cosa sono? Sono delle croquette di patate. Queste in inglese, americano, si chiamano tater tots. Tater sarebbe potato, e tater è un tipo un diminutivo. E sopra ci sta il pecorino, tutto sciolto. Mmm, ok, questi sono buoni. Mi fanno ricordare la mia infanzia. Ragazzo, la porzione è gigante. Oh Gesù, e io come faccio a mangiare sta cosa? Ragazzi, questo è il wustel. Ragazzi, come faccio a mangiare sta cosa? Come vi faccio male? Le patatine. Wow, ma le patatine sono buonissime. Sono belli croccanti fuori e morbidi dentro. No, questi sono buoni. Questo non è la classica patata fritta sul gelato. Questo è freschissimo. Mio Dio. Ma come cazzo si fa? Questo è buono. Ragazzi, non so come farò. Mi farà una merda sicuramente. E quindi, questa cosa è enorme, è immenso. Io ci provo. Mamma mia. Mamma mia. Mi devo fermare. Devo assaggiare pure il panino. Ragazzi, questa è tanta roba. Adesso vediamo il panino. Oh Gesù. Ma io dove me lo metto sta cosa? Guardate questa... È una bomba. È gigante. Ragazzi, questo panino è gigante. È veramente grande. Dovevo mantenere per forza la scatola qui. Ragazzi, questo è fantastico. Mamma mia. Ragazzi, questa roba... Questa roba è buonissima. Il pane. Il pane. Cazzo, sento le cipolle. È tutto top, ragazzi. La salsa della casa non è troppo piccante. Al punto giusto. Le cipolle caramelizzate sono... Sono top. E il pollo dentro è super croccante. Ma come cazzo si fa? Ragazzi, vi dico solamente una cosa. Qui stiamo avendo a che fare con dei maghi. Con dei maghi della cucina. Perché io in tutta la mia vita, crescendo a Napoli e tutto il resto, non ho mai assaggiato dei panini stile americano che sono così. Mai. Assolutamente mai. Ma poi, una cosa che mi piace, sono le patatine. Queste patatine sono fresche. Freschissime. E vi dico una cosa. Io l'ho detto pure. No, le patatine non le volevo. Perché ogni cosa... C'è l'hot dog, patatine. Panino, patatine. Siccome non posso mangiare tante patatine, perché io non riprendo più le patatine in generale, perché è difficile trovare un posto che fa le patatine buone. Ma queste non sono solo fresche, ma sono croccanti al punto giusto. Ragazzi, io queste sono le mie patatine che ho assaggiato mai in vita mia. E sono stato dappertutto. Dappertutto. Sto scoppiando. Queste patatine sono proprio di un livello stratosferico. Allora, guarda, un'altra cosa che voglio mettere in chiaro è il prezzo. Dove essere onesto, quando ho pagato il totale, sì, sembrava tanto. Considerando la quantità di cibo che ti danno, il prezzo è assolutamente fattibile. I Cacio Pops, 6 euro. Avete visto quanta roba ci stava in quel contenitore. Il Rocket Dog e il Wustel stava 9,50 euro. E il panino con il pollo croccante, il pollo fritto dentro, doppia impannatura. Ah, appena preso il pullman, ottimo. 13,50 euro. Al momento che mi ha detto 32, perché ho preso pure l'acqua, l'acqua frizzante, mi stavo in un attacco. Il panino e il Wustel vengono con una montagna enorme di patatine fritte. Le quantità sono giganti. Dove è il mio voto? Ci siamo di nuovo. Gusti illegali. Cioè, qualcosa così buono dovrebbe essere assolutamente illegale. Voglio solamente dire al proprietario, non so se il ragazzo che stava lì con gli occhiali è il proprietario, però continuate con questa qualità perché avete un prodotto fantastico. E ve lo dico da italo-americano che ho mangiato un sacco, ma tanti, tanti di quei hamburger Wustel nella mia vita ci ritornano sicuramente un giorno quando tornano a Genova. Ragazzi, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuta. Logicamente, lasciate un commento in basso. Mettete un like, iscrivetevi al canale. Tutte le solite cose che dicono tutti i YouTubers. E niente, ci vediamo alla prossima. Da Genova, almeno per adesso, è tutto. Ciao!